cara sorella e caro fratello all'ascolto benvenuto per questo momento di riflessione di lode a volte noi cerchiamo di risalire con i nostri ricordi e sappiamo e scopriamo che c'è sempre una parola che ci precede prima che noi lo possiamo sapere prima che ne diventiamo consapevoli vi è una parola che ci ha preceduto che ci ha accolto che ci ha benedetto che ci accompagna oggi noi vogliamo chiedere al signore di farci riascoltare quella parola che è una parola di vita e di vita eterna Dio ci accoglie il figlio di Dio vive e gli viene per salvarci il nostro volto si illumini e il nostro cuore si rallegri amen il profeta Ezechiele dice e il signore che parla eccomi io stesso mi prenderò cura delle mie pecore e andrò in cerca di loro come un pastore va in cerca del suo greggio il giorno in cui si trova in mezzo alle sue pecore disperse così io andrò in cerca delle mie pecore e le ricondurrò da tutti i luoghi dove sono state disperse in un giorno di nuvole e di tenebre io stesso pascerò le mie pecore io stesso le farò riposare dice il signore ci raccogliamo in preghiera Dio nostro ti prendi cura di noi sei diventato essere umano per vivere tra di noi come uno di noi per liberarci dalla paura che abbiamo paura che a volte condiziona la nostra vita il nostro futuro vieni a prenderti cura di noi e facci trovare riposo nella tua parola e nella tua pace il tuo amore ci possa accompagnare in questo momento di culto e in ogni istante di questa settimana grazie signore amén 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Racconto di Babele, di questo tentativo dell'uomo, dell'essere umano, di raggiungere il cielo. Tutta la terra, dice il testo, parlava la stessa lingua e usava le stesse parole. Dirigendosi verso l'oriente, gli uomini capitarono in una pianura nel paese di Scinear e là si stanziarono. Si dissero l'un l'altro, venite, facciamo dei mattoni cotti con il fuoco. Essi adoperarono mattoni anziché pietre e bitume invece di calce. Poi dissero, venite, costruiamoci una città e una torre la cui cima giunga fino al cielo, acquistiamoci fama affinché non siamo dispersi sulla faccia di tutta la terra. Il Signore però discese per vedere la città e la torre che i figli degli uomini costruivano. Il Signore disse, ecco, essi sono solo un popolo e hanno tutti una lingua sola. Questo è il principio del loro lavoro. Ora nulla impedirà loro di condurre a termine ciò che intendono fare. Scendiamo dunque e confondiamo il loro linguaggio perché l'uno non capisca la lingua dell'altro. Così il Signore li disperse di là su tutta la faccia della terra ed essi cessarono di costruire la città. Perciò a questa fu dato il nome di Babel perché là il Signore confuse la lingua di tutta la terra e di là li disperse su tutta la faccia della terra. Ecco come si conclude, cara sorella e caro fratello, questa prima parte di racconti della Bibbia che ci parlano della pre-istoria. Entreremo nella storia soltanto subito dopo con Abramo. Solo poche settimane fa in occasione della Pentecoste abbiamo letto il testo del Libro degli Atti che si ricorderà in cui popoli e genti e persone diversissime il giorno di Pentecoste si comprendono, si ascoltano e si comprendono nuovamente. Dunque Babele sembra l'anti-Pentecoste, è il momento in cui le persone invece non si capiscono più, in cui i linguaggi si confondono. E' difficile capire se oggi noi siamo di più un popolo, un mondo di Babele o di Pentecoste. Personalmente io so che dobbiamo lavorare per un'umanità unita, ma non sempre questo è possibile. Sono uno streno difensore, ad esempio, dell'unità europea, malgrado tutte le contraddizioni e gli errori che sono stati fatti. Basti pensare alla vergogna delle centinaia, delle migliaia di morti, di migranti nel Mediterraneo. Un'Europa che non riesce ad imparare la solidarietà, un'Europa che non impara ad essere unita dunque. Perché se non sei unito nella solidarietà, non sei unito. Malgrado questo, credo che la prospettiva, l'orizzonte nel quale dobbiamo metterci e per il quale dobbiamo lavorare è certamente quello dell'unità europea. Questo testo ci aiuta forse a capire come mai sia difficile, ancora oggi, vivere insieme, popoli, culture, lingue diverse. Intanto ci parla della diversità delle lingue, non so se ci hai mai riflettuto, ecco, che sono decine, centinaia, migliaia di lingue diverse, per non parlare poi dei dialetti. Il riferimento in Genesi 11, quando si parla della grande città che vuole raggiungere il cielo, era quello di Babilonia. Babilonia era il simbolo di una cultura che voleva dominare il mondo, che voleva opprimere tutti e tutte. Sappiamo che vi erano queste zikurat, queste grandi costruzioni, e in cima al più grande zikurat vi era un tempio, il tempio di Marduk. Il testo dunque ci dice che c'è qualcosa di sbagliato in questo tentativo dell'essere umano di raggiungere il cielo. Ma ci dice molte cose interessanti, che appaiono anche dei dettagli. Per esempio, ci dice che gli umani sono caratterizzati dalla paura della dispersione. Della dispersione, questa è la grande paura. Vogliono rimanere insieme, vogliono mantenere, o c'è qualcuno piuttosto che vuole mantenere l'omogeneità dell'umanità, che vorrebbe che tutta l'umanità fosse uniformata, fosse omogenea. È un sogno antico quello di un'unità uniformata e utilitaristica. È il sogno di tutti i grandi dittatori della storia. Avere un'umanità che parla una sola lingua, che ha una sola cultura, che risponde a dei criteri che siano identici per tutti e per tutte. E allora questo testo ci dice, anzitutto, il no di Dio di fronte a questo progetto. No ad un'umanità autartica, ad un'umanità autosufficiente, conformista, radicata nella paura, perché vi è sempre un dittatore, ovviamente, che tiene insieme in questo mondo l'umanità. Dio non permette, non vuole, che l'umanità si ripieghi su un tentativo di uniformità massificante, omologratrice. E dunque c'è qui già una prima polemica, certamente nei confronti di una civiltà massificata. Massificata, che vuole che la massa si rassomigli in qualche modo e che sia tutta quanta omogenea. Dunque, lavorare per un mondo, per il mondo di Tentecoste, Tentecoste significa, in qualche modo, opporsi a questo progetto. La diversità è bella, è una ricchezza. Non è soltanto possibile, è necessaria la diversità. E questo non significa, però, essere divisi, essere nemici. Che cosa possiamo fare, dunque? Anzitutto acquisendo consapevolezza sulla questione del linguaggio e della comunicazione. Il testo dice che la gente non si comprendeva più perché non si ascoltava più. Ed è quello che succede anche nella società d'oggi. L'importante è che io imponga il mio dire, le mie parole, che gridi più forte degli altri. Ma non sono più disposto ad ascoltarlo. Perché, vedi, in questo testo antico sembra che Dio possa essere geloso del progresso dell'uomo. E' geloso del fatto che l'uomo costruisce questa grande torre. Ma non è questo. E che Dio vede in questo un grande pericolo. Vede il pericolo di una società di uomini e donne sottomessi ed uniformati, omologati. C'era già il dittatore che si chiama Nimrod, che ti vuole fare vivere tutte le persone in una stessa grande, immensa città in cui si parla un solo linguaggio. L'unificazione della lingua, ricordiamocelo bene, l'unificazione della lingua è sempre stata collegata ad un preciso disegno di oppressione. Noi ci ricordiamo, credo tutti, sanno che durante il periodo del fascismo tutte le lingue straniere, persino i toponimi dei nostri paesi, delle nostre borgate, delle nostre valli, sono stati cambiati, sono stati italianizzati, perché appunto erano visti come il segno di una possibile contaminazione di un'altra cultura, di un'altra lingua e così via. Il termine linguaggio in ebraico è identico al termine che indica anche labbra. E questo ci dice qualcosa, perché il labbro è un bordo anche, è un limite. Il labbro indica un limite, al di fuori di questo esce una parola, è un segno di separazione, se vuoi. Ecco, parlare può significare, bisogna esserne ben consapevoli, può significare escludere, può significare separare, può significare dividere. Ed è quello che succede a Babele, mentre a Pentecoste, ce lo ricordiamo, succede l'inverso, perché finalmente ci si ascolta. Non è più importante soltanto quello che io dico, ma è importante quello che l'altro dice. E poi il nostro testo dice che a Babele questo popolo omologato, massificato, voleva darsi un nome, cioè voleva acquisire una fama. ma diamoci un nome, acquistiamoci una fama. Volevano acquisire quindi una propria autonomia assoluta. Quando tu pensi di essere tuo popolo, di essere artefice del tuo destino, completamente autonomo. Ecco, l'idolatria e l'oppressione hanno sempre la stessa radice. Quando qualcuno ti dice dovete essere tutti uguali, tutti omologati, nel modo di vestire, nel modo di pensare, nel modo di porvi, eccetera, eccetera, lì c'è un pericolo straordinario. Allora, io credo che le lezioni siano molteplici, quelle che possiamo accogliere oggi. Quale Europa stiamo costruendo? Quale Europa, intanto? Quale mondo stiamo costruendo? Una babele dove tutti devono rassomigliarsi, rispondere a determinati parametri, oppure una nuova comunità umana di uomini e di donne libere che si riconoscono con stupore, con riconoscenza, che riconoscono la loro diversità e che capiscono che questa diversità è arricchente. Accanto al discorso dell'ascoltarsi e del linguaggio c'è infine anche il pericolo della sedentarizzazione. A Babele tutti vogliono vivere lì, per sempre, mentre dopo Babele, come sappiamo, entrerà in scena Abramo. Questo uomo che viene chiamato da una terra lontana, da un Dio straniero, viene chiamato ad un avvenire straordinario e crede, Abramo, a questa parola di Dio. E Abramo è nomade, non è sedentario. Abramo sa che non ci si può considerare arrivati. Non si tratta di vivere in posti diversi nel corso della nostra vita. Si tratta di capire che a livello spirituale, anzitutto, a livello psicologico, non posso mai pensare di essere arrivato. Anche le nostre chiese, io credo, possono svolgere, le nostre piccole, a volte malandrate chiese, possono svolgere un grande servizio. Per quanto fragili, possono essere un'anticipazione del nuovo mondo, dello spirito di Dio. Possono farci capire che l'essere insieme non è mai una questione di sangue o di razza, ma è una questione solo di fede e di libertà, nella piena diversità. Dio ci offre, dopo Pentecoste, Dio ci offre la possibilità di una comunicazione, di una comunione nuova, salvaguardando le diversità. E poi ci sarà Abramo, come ti ho detto. E poi dopo Abramo ci sarà la chiamata di un popolo intero, il popolo di Israele, di uomini e donne che saranno chiamati a mettersi in cammino sempre, a non rimanere fermi. E poi ci sarà il figlio di Israele che veniva da Nazareth. Anche lui camminerà. Anche lui non aveva un posto dove mettere il proprio capo, dice il Vangelo. Anche lui ci chiamerà ad uscire dai nostri stereotipi, dai nostri pericoli di massificazione e di omogenità. Oggi e domani toccherà a te, toccherà a me, toccherà a noi insieme essere uomini e donne che guardano al futuro, nella diversità, che mantengono e proteggono le diversità, sapendo che la comunione può esistere lo stesso, ma è la comunione dello Spirito che soltanto Dio può creare. Amen. Amante ha minato lungo tempo verso la libertà, verso la luce per cercare sempre la verità. Ascolta, ascolta, ma non fa alcun rumore, marciamo nella notte, ormai da molte ore. Ascolta, ascolta, i passi del tuo Signore, cammina sulla strada, cammina insieme a te. An rifiutato ogni guerra, cercando pace ancora, la notte l'ha lasciato e canterà l'amor. Ascolta, ascolta, ma non fa alcun rumore, marciamo nella notte, ormai da molte ore. Ascolta, ascolta, i passi del tuo Signore, cammina sulla strada, cammina insieme a te. sono venuti con il sorriso, aprendo il loro cuore, hanno annunciato tra fratelli la legge dell'amor. Ascolta, ascolta, ma non fa alcun rumore, marciamo nella notte, ormai da molte ore. Ascolta, 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 i passi del tuo Signore, cammina sulla strada, cammina insieme a te. Vogliamo adesso concludere con la preghiera, questo momento di culto. Signore e Dio nostro, aiutaci ad avere fiducia in te, che vuoi chiamarci ad un mondo pieno di diversità, di diversità arricchenti, mai omologate, dove parliamo linguaggi diversi, ma siamo capaci di ascoltarci, anzitutto, e di riconoscerci dunque fratelli e sorelle. Ti affidiamo tutto ciò che non funziona nel nostro mondo e ti chiediamo la forza di aiutarci a cambiare ciò che non funziona. Rimettiamo a te le nostre preoccupazioni e ti affidiamo tutte le persone che ci sono care e quelle che non conosciamo, quelle che sono prigioniere del lavoro e quelle che soffrono perché non hanno trovato e non trovano lavoro, quelle che si sentono colpevoli di non fare abbastanza e quelle che vivono invece nell'indifferenza nei confronti degli altri. fa che possiamo essere testimoni di quella redenzione che soltanto Cristo può offrirci e nel suo nome che ti preghiamo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo o anche in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori e non ci esporra la tentazione ma liberaci dal male. Tuo è il regno, la potenza e la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Sorella e fratello, Dio ti sia dinnanzi e ti mostri la retta via. Ti sia accanto e passi il suo braccio potente intorno alle tue spalle fragili. Sia dietro di te per custodirti e per prenderti al volo quando inciamperai, quando potrai cadere. Sia dentro di te per consolarti, sia sopra di te per proteggerti dalla paura. La pace e la grazia del nostro Signore siano con tutte e con tutti noi, ora e sempre. Vai nella pace del Signore. Amen. Sia dietro di te Sia dietro di te Sia dietro di te Sia dietro di te